Amici di Barbecue Mania, vi presento Weber Master Touch 57 GBS Barbecue a Carbone della Weber in versione starter pack. Che significa? Oltre al barbecue a carbonella con cui possiamo andare a fare cotture dirette e cotture indirette, nel pacchetto convenienza troviamo, compreso nel prezzo, la copertura per il barbecue, copertura standard per tenerlo protetto da polvere e agenti atmosferici e inoltre troviamo, compreso nel prezzo, anche la ciminiera che è l'accessorio che ci permette di accendere facilmente il nostro carbone, 6 pasticche di accendifuoco Weber e in più 2 kg di bricchetti di carbone Weber che vi permetteranno di effettuare due grimpiate perché potete spegnerlo e riaccenderlo o una cottura indiretta da circa 3 ore perché è un bricchetto di carbone che dura sulle 3 ore. Il Master Touch lo potete avere in versione colorata per cui nero, avorio, verde, blu, grigio e rosso. Questo insieme al barbecue di serie abbiamo supporto porta copertio per cui semplicemente tirando indietro i coperti non solo perché rimarrà aperto e non dobbiamo trovare altri punti di appoggio per appoggiare il nostro copertio. Abbiamo la griglia di cottura in acciaio cronato versione gourmet con l'anello centrale removibile per poter usare i nostri accessori Weber gourmet, le due arette laterali articolate per poter ricaricare il carbone durante le fasi di cottura indiretta e in più abbiamo anche i nostri cesti separa carbone molto utili per andare a eseguire in maniera perfetta le nostre cotture indirette o le nostre low e slow. Per cui vi ricordo che sul sito barbecuemania.it trovate i barbecue a carbone Weber Master Touch in versione pacchetto convenienza starter pack con barbecue ciminiera e copertura. Affrettatevi perché l'offerta è limitata nel tempo.